Soltanto pochi giorni prima era stato fermato dalla polstrada di Battifolle che durante un normale controllo aveva scoperto un misterioso doppio fondo sotto al sedile del conducente, ancora vuoto però la polstrada così nonostante i forti sospetti non aveva potuto far altro che segnalare marca, targa e generalità del conducente, ma adesso da quel vano sono saltati fuori ben 300.000 euro in contanti. È successo a Lucignano lungo il tratto a Retino della 1, dove una pattuglia della stradale ha intercettato la stessa Citroen a bordo della quale si trovava lo stesso 25enne di Bovalino in provincia di Reggio Calabria, fermato solo qualche settimana prima. Il giovane addirittura nel tentativo di eludere i controlli aveva messo in atto anche un ingegnoso stratagemma impostando sul navigatore di bordo un alert nella zona di Civitella in Valdichiana definendo la zona a rischio, tentativo che però a nulla è valso. Gli agenti della postrada infatti una volta riconosciuta l'auto si sono lanciati all'inseguimento e sono riusciti a fermarla. All'interno del vano sono stati così trovati 300.000 euro in banconote di vario taglio confezionate in otto panetti, una cifra della quale nel conducente e nel passeggero un compaesano e coetaneo del 25enne hanno saputo dare giustificazione agli agenti. Denaro ed auto sono stati sequestrati, i due invece denunciati adesso proseguono le indagini della polizia stradale.